Musica Mi mancava la nebbia, io sono nato in Lombardia e di conseguenza la nebbia è di casa. Qualcuno potrà dire senza barba, ogni tanto bisogna toglierla, ognuno di noi tante volte ha bisogno di ritrovare se stesso, tornare nei posti in cui è nato, magari semplicemente rivisitare posti che aveva visto da bambino. E il tempo la farà da padrone, perché ci aiuta a capire. Le idee arrivano ma non quando vuoi te, arrivano quando vogliono loro. Le mie idee stanno arrivando, io mi sono messo in testa di fare il videomaker, magari non ci riuscirò da subito al livello che voglio io, però nel tempo si, nel tempo si. Se ti metti dietro un obiettivo e continui a spingere dietro quell'obiettivo vuol dire che credi in quello che fai. Se credi in quello che fai alla fine, alla fine ci riesci, perché perseveri, diventi come una specie di ricercatore di quella cosa che ti sei messo in testa. E andando avanti, arrivi a un punto che quella cosa arriva. Sta arrivando piano piano. Wow! Succedono cose strane a volte nella vita. Cose che comunque ti portano ad altre cose. Io non sono perso nella nebbia. Ma so che qualcosa sta cambiando per la mia vita, per il canale. Perché desidero che cambi. Il forte desiderio di cambiamento porta a un cambiamento. Probabilmente qualcuno potrà dire, ma perché sto qui ad ascoltare questo? A volte me lo domando anch'io, ma perché stai ad ascoltarmi? Forse perché ti diverte la cosa? O per qualsiasi altro motivo? Chi lo sa? Chi può dirlo? Chi lo sa? Ho sempre voluto riprendere un aerone. Oggi è arrivato. Ciao, buona giornata. Un bacione. Ciao, buona giornata. Ciao, buona giornata. Ciao, buona giornata. Ciao, buona giornata. Ciao, buona giornata.